I rifiuti tossici seppelliti a bussi sul Tirino continuano a inquinare. La conferma arriva dai dati dell'Arta all'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. Le attività di controllo svolte nelle aree a monte del sito industriale a partire dal 2015, quindi a otto anni dalla scoperta delle discariche 2A e 2B, hanno accertato l'inefficacia delle misure messe in atto, che in attesa della bonifica avrebbero dovuto evitare che le scorie continuassero a contaminare l'ambiente. In particolare, scrive l'Arta in una relazione, non hanno funzionato gli interventi di capping, ovvero di copertura e impermeabilizzazione delle discariche. Il telo avrebbe dovuto evitare che la pioggia attraversasse il terreno inquinato e contaminasse le falde acquifere del Tirino, ma è a lungo rimasto smantellato in più punti. A ottobre scorso Edison ha iniziato i lavori per posizionare un nuovo geotessile. Secondo l'Arta, inoltre, non hanno funzionato nemmeno le operazioni di prelievo dalla falda volte a depurare l'acqua e a rimetterla in circolo pulita. Il risultato sono le numerose eccedenze di solventi clorurati, in particolare esacloroetano. Inoltre, nelle aree di scavo per il metanodotto della centrale Turbogas è stata riscontrata un'allarmante diffusione di diossine e mercurio, la sostanza che dà il colore rossiccio al terreno. E le sostanze tossiche contaminano non solo il suolo e le acque, ma anche l'aria. E mentre le discariche continuano a inquinare, la bonifica è arenata. Tutto è fermo nei tribunali, in due diversi processi. Quello dell'Edison, che ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato, che aveva giudicato la multinazionale responsabile del disastro ambientale. E quello del Ministero dell'Ambiente in Consiglio di Stato, che ha fatto ricorso contro il Tardabruzzo, il quale aveva giudicato illegittimo l'annullamento della gara d'appalto dei lavori di bonifica. All'interno di questo procedimento matriosca c'è anche il ricorso della DECDEME, la ditta belga che aveva vinto la gara, la quale ha chiesto danni milionari a seguito dello stop al progetto di bonifica.